Parliamo di sfalcio, parliamo di Vicon e parliamo delle nostre fantastiche barre di taglio. Da 1,65 m a 10,30 m di larghezze di lavoro, l'esclusività dei tre coltelli vi permetterà di lavorare in qualsiasi condizione, la barra monoblocco eviterà qualsiasi tipo di flessione e ridurrà la manutenzione, i dischi pari in qualsiasi misura vi permetteranno di non avere assolutamente residui in campo e di avere un ricaccio perfetto, l'alza prodotto su ogni disco vi permetterà di lavorare anche su prodotti molto difficili. Questa è la fantastica offerta di Vicon e delle nostre super barre. Vicon, my way of farming.